Ok ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi Desenzano del Garda, non proprio Desenzano del Garda, ma siamo lì vicino, ma lo lascio dire a Roberta e alle sue due splendide collaboratrici Alessandra e Giulia. Ciao Roberta, come stai? Buongiorno Romano, stiamo bene, benvenuti a Castiglione delle Stiviere in realtà, quindi vicinissimo a Desenzano del Garda, ma siamo in provincia di Mantova. Ok, va bene, però, zona lago, zona lago, sei in una posizione strategica. Sì, direi proprio di sì, veramente è una zona meravigliosa. Allora, impeccabili con i capelli e un look fantastico, tutte e tre? Grazie, dobbiamo, vero? Esatto, no, poi mi piace questa cosa divisa, mascherina, il logo, cioè ragazzi, qua si vede che siete sul pezzo e studiate. Studiamo, poi come ben sai in questo momento abbiamo anche tempo per studiare, quindi ci porteremo avanti per farci poi trovare preparate alla riapertura. Allora, beh, io sto guardando la tua pagina e dice siamo al tuo fianco e ci vediamo presto. Eh sì, noi contiamo di tornare presto, come tutti i colleghi che in questo momento sono fermi, di tornare presto a rendere il servizio migliore che possiamo ai nostri clienti. Sai, io sto guardando un po' in questo momento le notizie, forse c'è qualcuno che dice che il 26, quei 4-5 giorni vi faranno aprire, poi puoi richiudere dopo Pasqua, però penso che dopo Pasqua sia, diciamo, siamo arrivati in cima a sta cavolo di salita e poi finalmente ci goderemo la discesa piano piano andando sempre verso un mondo migliore. Almeno lo spero e lo auguro. Però sono confidente in questa cosa. Cosa ne pensi? Anche noi, anche noi come te speriamo sia veramente così, che sia un momento di tornare a vivere in libertà, insomma, perché poi è quello che manca a tutti. Ok, ma siamo qui a parlare del tuo salone. Non parliamo di cose brutte, parliamo di cose belle, come il salone. Voi rendete felici le persone, no? Toccando oggi più il cuore forse che i capelli. E non posso fare a meno di vedere il tuo slogan, il tuo payoff, no? Specialista nel Total Look. Quindi, believe me, Total Look Specialist. Esatto, sì. Allora, hai detto bene. In realtà, noi siamo specialisti nel Total Look e believe me è proprio il nome che abbiamo dato al tipo di consulenza che abbiamo portato in salone, quindi questo metodo. Believe me perché è Credi a me per credere in te stessa, quindi per alzare l'auto-autostima. Questo è il viaggio che facciamo fare alle clienti all'interno del nostro salone. Mi dicevi che tu sei specializzata in questa consulenza molto particolare, che non è la classica consulenza, vieni, ok, quello lo fate regolarmente, ma vai oltre. Raccontami di che cosa si tratta e di come coinvolgi anche Giulia e Alessandra. Perché adesso sono lì un po' timide, ma adesso poi arrivo qualche su di loro. Preparate, ragazzi. Non pensate di essere lì a fare sovrammobile. No, no, assolutamente. Allora, sì, come dicevi bene tu, mi sono specializzata in questa consulenza perché in anni da formatrice e formazione mia ho capito che il cliente si stava spostando e desiderava qualcosa di molto diverso da quello che facevamo prima. Come hai detto bene, sì, ci sono quei dieci minuti di un quarto d'ora che dedichiamo a tutte le clienti nel giorno in cui hanno l'appuntamento all'interno del salone. E poi c'è la possibilità di fare questo viaggio all'interno di Believe Me, che è un viaggio fatto da cinque tappe, con un metodo molto particolare, che le accompagna nella loro consapevolezza. Quindi nel capire che stile hanno, che tipo di forma del viso hanno. Perché a volte ci dicono, ma tu cosa mi faresti? Con cosa mi vedresti? La domanda che ci fanno a noi e come tutti i colleghi è, ma tu cosa mi consigli? Cosa mi faresti? E quindi questo studio anche del viso, lo studio della gestuale, che è una tecnica molto bella che utilizziamo attraverso lo specchio tridimensionale, e poi tutto quello che è l'armocromia. Quindi capire effettivamente che tipo di donna sei, in quale stagione appartieni. Quindi se sei calda, se sei fredda, se hai un contrasto alto, basso. E questo si rapporta tutto sui capelli. Quindi tutto questo a cosa serve? In realtà serve per poter creare la cronice migliore per la nostra cliente. Hai parlato di armocromia, no? Vorrei infatti spiegare un po' questa cosa, no? Che è basata sulle stagioni, sui colori, cioè non c'entra la data astrale quando sei nata, queste cose qua, no? Perché molte persone associano a questa cosa erroneamente. Invece no, è un'altra cosa. Dammi una definizione per farvi capire al popolo dei consumer che ci segue cos'è questa armocromia. Non è semplicemente uno slogan, ma c'è proprio una scienza, uno studio. Sì, certo. È una disciplina. È una disciplina che studia effettivamente le nostre caratteristiche, quindi personali, partendo dalla pelle, dagli occhi. Infatti quando faccio la lettura dell'idere, come dici tu, mi dicono ma cosa vedi nel mio futuro? In realtà no, non serve a quello. E attraverso quelli che sono i punti fondamentali, quindi questa tecnica, questa regola del goal, si capisce se sei una donna che si posiziona nelle tonalità calde o nelle tonalità fredde e se sei un'oscura o una chiara. È nata negli anni 30, in realtà a livello cinema, quindi quando è arrivata la televisione a colori, si è capito che attraverso il colore, quelli che erano gli attori di quel momento, potevano trasmettere anche delle emozioni e rendersi più armoniosi o più caratteriali. Quindi quello che si fa oggi attraverso l'armocromia è veramente darti una palette colori che ti può valorizzare, che ti rende unica. È quella classica domanda che ti fanno, ma come ti sta bene questo colore? Perché in realtà magari è proprio nelle tue corde, quindi ti sta rendendo armoniosa. C'è un metodo che si usa, è l'accostamento di questi drappi e si utilizzano sempre doppi, quindi abbinamenti particolari e precisi studiati, perché nulla è lasciato al caso. E la cliente stessa lo vede da sola, cioè noi l'accompagniamo e le spiego naturalmente prima di vedere il suo viso, ci vuole una luce naturale, in un momento dove la cliente non è truccata, e lo vede da sola, perché quando noi ci avviciniamo al viso, il colore giusto, il nostro viso diventa più giovane, più fresco, più rilassato, i segni del tempo spariscono, e quindi ti rende giovane in realtà, ti rende solare, giovane e armoniosa. Quando invece il colore che abbiniamo al viso è un colore in contrasto, quindi non è il tuo colore, ti rende più stanca, è la classica proprio frase, ti vedo stanca, non stai bene, è quando abbiamo in realtà un colore che non ci appartiene, e quindi ci rende il viso meno felice. Ti dà gli anni che non vorresti, invece sei entrato in un posto dove di solito sei lì per fare totalmente l'opposto, quindi a recuperare gli anni, non a prenderne di più, e voi in questo caso siete dei maestri. Esatto, sì. Allora, due parole, volevo parlare un po' anche con Alessandra e con Giulia, no? Una mi hai detto che è specializzata per quanto riguarda la comunicazione, anche se di fatto è una parrucchiera a tutti gli effetti, mentre l'altra è più sui servizi più tecnici, diciamo così, no? Allora, Alessandra. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con queste splendide sfumature baciate dal sole. Esatto. Allora, tu di cosa ti occupi esattamente? Allora, come dicevamo prima, mi occupo della comunicazione sui social, anche poi dell'area tecnica, dell'area trattamenti, dell'area benessere. Sono comunque una parrucchiera completa, però mi occupo specialmente di queste cose. Ok, che scuola hai fatto per entrare in questo mondo? Ho fatto la scuola appunto di acconciatura, quattro anni, e poi dopo finita la scuola ho iniziato subito a lavorare qui. Sì, quindi è la tua prima esperienza. Come hai fatto a sceglierla, Roberta? Ho dato un'altra su Google, sui social, che sono comunque il canale più visto e ricercato, e ho trovato appunto questo salone, ho visto subito l'impostazione che mi è proprio piaciuta e quindi ho deciso di venire a far due parole appunto con lei. Ok, ma questa passione ce la avevi fin da piccola o ti è, diciamo, l'hai scoperta crescendo? Sì, allora, io ho uno zio in realtà che fa appunto il parrucchiere e ho fatto l'esperienza a livello stage da lui e poi ho voluto anche cambiare per vedere un po' altri orizzonti, altre modalità di lavoro diverse e sì, poi sono arrivata qui guardando i social alla fine. Ok, e invece poi abbiamo Giulia, no? Come Milva la rossa, con questo colore che non si può non notare, mentre tu sei special... No, c'è tutto. Esatto, io ho fianco Roberta nel settore appunto tecnico e stilistico venendo appunto da una consulenza specifica fatta sulla cliente poi andiamo a costruire il colore che meglio valorizza la nostra cliente. Ok, sogno nel cassetto perché poi anche per te, Giulia, Alessandra, tutte e due? Allora, ma il mio sogno è sempre stato quello di potermi costruire comunque una figura specializzata sempre nel mio ambito a livello capelli ma anche trucco nella cura proprio del benessere a 360 gradi. Ok, poi Roberta te le sei scelte proprio come si dice sul pezzo, cioè ben presente con le idee chiare e tanta determinazione. Devo dirti che ho una grande fortuna, devo, sono, penso, una di quelle veramente che non può assolutamente lamentarsi oggi di nulla e loro sono veramente speciali e soprattutto hanno un grande senso di appartenenza e questo la cliente lo sente, non per niente le adorano perché le nostre clienti adorano sia Giulia che Alessandra. Allora, curiosando sulle tue pagine, sui tuoi social, io leggo che sei una trainer expert. Perché questa definizione? Sì, perché arrivo da 20 anni, avevo 21 anni quando ho iniziato a fare questa esperienza da formatrice grazie a un'azienda italiana. Nomi, nomi, dai, diamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Sì, 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 allora, sono entrata a far parte del gruppo tecnico-stilistico di Vitality Sparman che assi da Torino e ho avuto la grande fortuna di veramente fare esperienza a livello nazionale e internazionale specializzandomi nel mondo del colore. quindi ecco perché poi ho proseguito anche con quello che è oggi l'armocromia e veramente è stata una crescita pazzesca. Sono veramente diventata un'altra persona. A volte dico a loro che quando ero ragazzina non alzavo neanche gli occhi da terra, no? Ero timorosa, non parlavo, guai contraddire il titolare all'epoca. Quindi sono cresciuta tanto grazie a queste grandi esperienze. Quindi devo dirti la verità che è stato importantissimo. Oggi sono una formatrice in Eduzen che è questo gruppo sempre con sede a Torino nel quale siamo colleghi e soprattutto professionisti specializzati ognuno in un settore diverso e collaboriamo per poter far crescere quello che è il nostro collega e non solo quindi nel mondo dell'air ma anche del beauty per poter far crescere in vari settori quella che è la loro professione. Quindi in realtà oggi sono ancora una formatrice sei sempre a lavorare anche siamo fermi in questo momento beh ok purtroppo provvisoriamente provvisoriamente dai speriamo un parrucchiere che si avvicina a questo tipo di formazione perché lo dovrebbe fare? perché in realtà noi all'interno dei nostri saloni abbiamo sempre voglia comunque di crescere io credo che un bravo professionista non si senta mai arrivato che abbia voglia di mettersi in discussione e poi abbia voglia anche di far crescere i propri collaboratori quindi avvicinarsi al mondo della formazione in questo caso in Eduzen è importante perché costruiamo dei percorsi mirati e specializzati in base alle esigenze dei nostri professionisti quindi di chi è nel mondo dell'air ma anche del beauty e penso che oggi più che mai abbiamo bisogno di stimoli abbiamo bisogno di mantenerci vivi quindi questa cosa è fondamentale fondamentale direi assolutamente ok tornando al tuo salone abbiamo visto che sei super specializzata in queste consulenze però vedo anche che ci sono delle proposte tipo queste pieghe questa piega super essential dico bene? super avevole di cosa si tratta? è un servizio con un trattamento che va a lavorare in luminosità sul capello idratazione e lascia questo capello molto leggero è nato proprio per le clienti sai che ci dicono sempre ma il mio capello è sottile si appesantisce quindi non uso la maschera di conseguenza questa azienda che è Vitality ha proposto questo prodotto questo servizio che è Essential Buacqua che serve proprio per fare i trattamenti al lavatesta veloci mirati proprio per idratare nutrire il capello luminosità senza appesantirlo quindi noi abbiamo creato questa piega che è la piega superior Essential e immagino che dura di più oppure no si si però aiuta perché è proprio quel capello che solitamente la cliente capita spessissimo ci dice non farmi la maschera non usare un prodotto conditional perché poi non mi tiene la piega in realtà con questo servizio è proprio nato per questo proprio per non appesantire e far sì che la piega a una durata maggiore poi se non erro mi sembra di vedere dalle immagini che è Alessandra che armeggia con una microcamera sì avete detto bene ok perché utilizzare uno strumento così con un salone parrucchiere allora Alessandra è specializzata anche in questo quindi anche nei trattamenti segue lei i trattamenti e ci piace l'idea che il cliente veda proprio insieme a noi come sta il suo capello quindi la salute della salute della salute del suo capello abbiamo fatto da poco un day spa e Alessandra ha seguito proprio le clienti e devo dirti che non hanno mai fatto qualcosa del genere soprattutto i clienti che arrivano da poco da noi e magari hanno voglia di capire effettivamente come sta il suo capello quindi è una cosa interessante con la tricocamera abbiamo la possibilità di vedere più in profondità effettivamente la nostra cute quindi là dove c'è una caduta dove ci sono dei tappi seibacei e anche quelle che sono le lunghezze quindi capire se hanno bisogno effettivamente di un taglio o di qualche prodotto o di servizio particolare perché la cute di fatto si riflette sui capelli quanto è importante avere una cute perfetta esatto bravissimo proprio così si parte da lì si parte da lì la famosa tela perfetta come dice un vostro collega immagino che lo conosciva bambucci voglio la tela perfetta perché non posso dipingere su un quadro che non è perfettamente bianco fa un'analogia così e quindi partire da una base con capelli sani una cute sane ti permette di arrivare a risultati che non sarebbero possibile farli nel tuo salone vedo un po' anche fiori un sacco di natura di esplosione hai scelto anche questa filosofia perché vedo dietro di te questi fiori come si chiamano tecnicamente quelli che soffiavi da piccolo soffione che da piccolo il soffione sì diciamo che la nostra scelta del prodotto giusto come dico alle clienti come spieghiamo sempre la facciamo prima per noi e poi per il cliente perché è questo perché in realtà noi seguiamo più clienti durante la giornata quindi a livello colore a livello trattamenti dobbiamo dare la sicurezza a noi alla nostra salute e successivamente al cliente quindi sicuramente c'è un'attenzione molto particolare nel scegliere prodotti giusti e oggi più che mai che abbiano anche un riguardo nei confronti della natura questo soffione che vedi è arrivato perché mi piaceva l'idea del sogno cioè entro in believing believing perché living è la zona relax la zona benessere un po' di casa nostra e noi l'abbiamo voluta riportare all'interno del nostro salone e il soffione ci dà quella sensazione di sogno come hai detto bene tu ci fa tornare i bambini quando soffiavamo nei campi trovavamo i soffioni e ci dava questa idea del sogno di realizzare un sogno quindi di esprimere un desiderio nel caso ci fosse bisogno date ancora più emozioni sai che io dico che non siete nel mercato della cosmetica ma siete nel mercato delle emozioni perché quando una persona entra da voi non sta comprando un prodotto o un servizio ma sta comprando un'emozione quella cosa lì è inestimabile quindi è sempre curiosando perché tanto sono immagini che stanno passando in sovraimpressione ho visto questa tecnica waterfall cascate parliamo di colore e penso che la ragazza che è predisposta a questo è Giulia giusto? esatto ok di cosa si tratta questo waterfall anche perché così spieghi finalmente perché quando vengo da un parrucchiere non si tratta soltanto di prodotto che è assolutamente eccellente ma è come lo si utilizza la differenza è questa qua fondamentalmente esattamente noi partendo sempre dal presupposto di una mirata consulenza andiamo poi a costruire il colore giusto che si adatta bene alla cliente attraverso anche questo cutouring la nostra tecnica di color waterfall è una tecnica che abbiamo studiato noi per esaltare o ricreare delle luci e ombre all'interno dei capelli per mettere in risalto appunto il taglio e personalizzare il look di ogni cliente per dare questa tridimensionalità alle chiome ma questa cosa quanto tempo ci metti nel senso ci vuole più tempo rispetto a una tecnica normale oppure no è semplicemente un discorso di professionalità di come posare il colore in certe zone piuttosto che un altro scegliere le miscele corrette ed eccetera eccetera esattamente ma come tutte le cose si parte sempre prima da una mirata consulenza e poi in base a quello viene effettuato appunto il color waterfall personalizzato per ogni cliente e viene eseguito nello senso tempo di posa del colore di base non ci sono particolari differenze di tempistiche da un servizio normale di colorazione ok quindi non è che rapite le clienti per fare questo tipo di servizio no assolutamente allora siete in tre però mi dicevi che siete alla ricerca disperata di un'altra figura quindi ragazzi voi che ci state ascoltando se siete in zona desenziale del Garda avete grande voglia di lavorare professionalità magari viene col tempo ma soprattutto voglia di mettersi in gioco che tipo di figura vuoi avere nel tuo salone Roberta allora Romano stiamo cercando in questo momento un'apprendista perché vorremmo una ragazza giovane da poterci un po' costruire e aiutare a crescere abbiamo un progetto ben chiaro anche per questa persona che vogliamo inserire in salone e quindi pensiamo che oggi sia la cosa migliore quindi abbiamo fatto dei colloqui siamo disposte a vedere anche altre persone cerchiamo sicuramente una persona solare che abbia voglia di crescere e amare questo lavoro senza mai fermarsi perché questo è quello che deve succedere all'interno del nostro salone e non solo esatto che debba sposare la vostra filosofia soprattutto perché uno magari è anche bravo però se non è proprio allineato a quello che la titolare del salone vuole esprimere è difficile poi andare d'accordo nel tempo è una delle prime cause diciamo di litigi magari una persona molto brava però diceva no io questa cosa la farei in un modo invece tu dici no da me sono titolare la voglio fare così poi sono aperto a tutte le discussioni però deve sposare la filosofia questa è fondamentale sì sì anche perché noi abbiamo una filosofia ben chiara e molto forte e quindi ci teniamo assolutamente che sia così ecco quello sicuramente quindi abbiamo detto un salone specializzato in questa consulenza davvero particolare che comunque è aperta a tutti no senso io ho una telefonata ti spiego il mio problema vengo da te vediamo cosa possiamo fare tra l'altro scoprite delle cose soprattutto le clienti scoprono delle cose che fino al giorno prima neanche sospettavano e allora cominciano a capire da dove vengono alcuni dei loro problemi che orari facciamo dopo Pasqua magari appena prima di Pasqua quando ci si potrà di nuovo vedere allora sicuramente saremo disponibilissime quindi nella prossima riapertura andremo d'oltranza in realtà i nostri orari sono martedì mercoledì 9 19 il giovedì dalle 13 alle 21 e il venerdì e sabato dalle 8.30 alle 19 quindi questi sono gli orari diciamo che abitualmente abbiamo in salone ok poi ovviamente siete super aperte e flessibili ad adattarvi in tutte le cose domanda domenica avete lavorato l'ultima domenica era possibile ecco vedete quindi siete sempre dalla parte dei clienti in tutti i modi vi fate in quattro tra l'altro devo dirti che il venerdì quando abbiamo saputo che ci avrebbero chiuso il lunedì abbiamo ci siamo un attimo confrontate tempo due minuti abbiamo iniziato abbiamo mandato il messaggio sul nostro gruppo whatsapp con i clienti e io credo forse 5 minuti Ale si è riempita la domenica quindi devo dirti che c'era anche veramente tanta voglia da parte dei clienti e per noi è stato un piacere perché alla fine cioè fino alla fine si poteva lavorare e abbiamo preso l'occasione al volo certo ecco questa cosa non è che ti voglio incoraggiare a lavorare la domenica però in un futuro lontano ogni tanto mandare un messaggio che sorprenda la clientela che guarda c'è questa cosa particolare oggi che la clientela non si aspetta vedi che gli stimoli e loro vengono in salone può essere un giorno diverso dall'altro una sera o un trattamento particolare a volte si sottovaltono queste cose e si riscoprono in questi periodi che volenti o non letti siamo costretti a farlo quindi una piccola nota positiva di questa situazione allora ragazzi siamo in chiusura posso solo dire che se cercate un salone dove c'è una consulenta davvero particolare quindi con studi armocromia e tante altre cose e una personal trainer dei parrucchieri per quanto riguarda la formazione e lo stile non potete non passare da believing high stylist Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantua che comunque è vicino anche a Desenzano in una posizione strategica quindi passate da loro e poi una bella gita al lago quando si potrà ok grazie mille Roberta grazie Alessandra e grazie Giulia complimenti davvero grazie a voi grazie Romano per questa opportunità e naturalmente ti aspettiamo in salone da noi nel prossimo parrucchierando on the road come mi lasciano libero passo assolutamente a fare un'intervista dal vivo e magari ci beviamo anche un caffè insieme volentierissimo ok ciao a tutti ragazzi ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti